Rieccoci dopo la pubblicità, Primo Sitterpares, appuntamento del mercoledì, Gruppo TV7, vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, avete già visto l'ospite importantissimo, io davvero sono onorato nell'averlo qui con me questa sera, stiamo parlando del mondo, sembra una parola esagerata ma è proprio così, stiamo parlando delle potenze mondiali, del Papa, dell'America, della Russia, parleremo anche dell'Italia, poiché nel piccolo anche l'Italia, mi racconta delle volte, facciamo un po', sembriamo la cenerentola ma non è proprio così e poi mi racconterà, perché poi lei ha fatto anche la politica, magari qui mi racconterà come è mai andato in politica, però ritorniamo, allora eravamo rimasti in America dove era salito con Johnson e stava facendo il giro del mondo, però purtroppo è successo quello che è successo dovuto rimanere a tribù. E poi anche lì il mondo è cambiato perché la gente di colore ha preso quello che era giusto. Come dicevo prima ho incontrato anche questo Malcolm X che era ai tempi di Martin Luther King, era nella stessa epoca, ma mentre Martin Luther King cercava l'accordo con i bianchi per far vivere meglio i neri, questo Malcolm X era un fanatico razzista all'incontrario, cioè lui diceva, teorizzava che i neri, la razza nera è superiore a quella bianca e voleva che il governo americano gli concedesse uno stato in cui i bianchi non avrebbero potuto entrare, non voleva essere contaminato dalla razza bianca, era questo gruppo dei musulmani neri si chiamava, ed era un tipo affascinante, veramente affascinante. Io ricordo Gavroschi che sono stato a New York nell'82 la prima volta e ricordo, nel passeggiare ero da turista, mi raccontavo che a periodo lì il Central Park era un po' diviso la parte dove c'erano i ricchi e la parte dove c'erano i neri. E mi ricordo che i palazzi dove c'erano gli artisti da Madonna valevano l'ira di Dio economicamente di dollari e di fronte c'erano i palazzi uguali identici dove c'erano i ricchi che tutto intero costava come un decimo, un millesimo. E il sindaco allora, non ricordo il nome di New York, per prepararli bene fece i balconi, le terrazze, fece dare il colore per renderli più carini, insomma più gradevoli. Oggi questa differenza non c'è quasi più, nemmeno nei prezzi diciamo, perché tutta quella parte west del parco i prezzi sono saliti molto anche lì. Io ricordo andai nella chiesa, teneva 20 mila persone, era vuota, perché era dalla parte proprio di quelli di colore. Avrebbe mai pensato che dopo tanti anni, da quel periodo lì, diventasse presidente americano un nero? A parte che insomma io non riesco a considerare Obama nero, perché veramente è quasi, insomma in tutto, sia nel colore della pelle anche addirittura, ma in tutta la sua maniera di essere, di parlare eccetera, ha molto poco del nero classico. E adesso aspetteremo, aspettiamo il prossimo colpo, la prossima sorpresa sarà quando faranno un presidente e una donna. E questa è la cosa che... Ma in quel periodo avrebbe mai pensato che succedesse questo? Beh alla lunga doveva succedere, forse uno poteva pensare che succedeva prima o dopo, ma... E' come un papa nero. Come un papa nero, beh ci sarà un papa nero. E prima o dopo ci sarà anche quello. Forse nel prossimo già. Forse che nel prossimo. Ma se ne parla anche, c'è anche un nome che io non mi ricordo, ma c'è un nome che circola, credo il cardinale nigeriano, che ne parlano come un papabile. Un papabile, quindi il mondo sta... Senta Gavassi, poi dall'America va a far l'inviato in Russia. Davvero c'è odio fra questi due popoli, fra il popolo russo e il popolo americano? Intendo popolo, mi scusi, tra i presidenti, insomma tra... No, 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 adesso con Trump non si capisce niente, non so che idee ci apri, da una parte li mette, lo critica, lo condanna, dall'altra li fa la corte, eccetera. Naturalmente a livello popolo non c'è nessun odio. Putin purtroppo è un genio, è un genio del male, ma è un genio, è il più capace politico che c'è oggi sulla scena internazionale. E gioca questa semina, zizzagna in Europa, cerca di fare degli accordi non con l'Europa in quanto tale, ma con i singoli paesi, con i singoli stati. Vince le elezioni, magari qualcuno può pensare che le elezioni in Russia siano state truccate, ma anche se fossero... Io non credo fossero truccate, ma insomma ha una popolarità immensa, tutti i russi sono molto fieri di avere un presidente che critica l'Occidente. Essendo un inviato dei due paesi, era controllato lei Gavorski da qualcuno, dai servizi segreti americani e russi? No, americani no, a meno che io sappia, ma non credo che avessi nessun interesse per i servizi americani. Per i servizi russi e polacchi, certo, mi seguivano, diciamo, apertamente, nemmeno di nascosto. Certo, certe volte nemmeno di nascosto, certe volte apertamente, hanno anche cercato di ingaggiarmi, diciamo così. Cioè ho avuto contratto delle persone che agivano per conto della KGB che mi hanno offerto di collaborare. Quindi tutti i mezzi erano possibili. Eleciti per raccontare al mondo quello che volevano che si raccontasse. E senta, sarebbe interessante fare altre domande, ma davvero ho tante cose da chiederle. Poi lei intervista, credo, uno dei dittatori un po' particolari, che era un po' diverso, credo, dagli altri, per quanto meno da criticare lo era, che è un tal Fidel Castro. Che personaggio era Fidel Castro? Ma io, devo dire, sono rimasto impressionato, molto impressionato positivamente da Fidel Castro. Tanto che quando ho fatto questa intervista, degli amici miei mi hanno accusato di essere stato un po' troppo benevolo, gentile nei suoi confronti. Ma Castro è un dittatore, è stato un dittatore molto molto particolare. Cioè io penso, considero che lui, tutto quello che ha fatto, l'ha fatto in buona fede. Lui pensava veramente di fare il bene di Cuba. E in parte l'ha fatto, perché Cuba, diciamo, se uno pensa a Cuba, cosa è una piccola isola, 8 milioni di abitanti che per oltre 60 anni ha tenuto in scacco gli Stati Uniti, ha diffuso la sua influenza, la sua importanza in tutta l'America Latina. Da solo si può dire. Tutta l'America Latina, la teologia della liberazione, tutto, insomma, è stato... Poi sono sicuro che Castro come dittatore non fa parte di quella categoria di dittatori che hanno un conto in Svizzera. Penso che non abbia messo dei soldi sporchi da parte. E cosa ne ha raccontato nell'intervista? Ah, è stato interessantissimo, tutto, tutto... Poi lui intelligente, perché parlava bene degli americani, mi ha parlato bene di Kennedy, mi ha parlato, mi ha raccontato tutto quello che era la baia dei porci, tutto quell'episodio lì, Khrushchev, c'era Khrushchev, lui che litiga con Khrushchev, perché Castro vuole attaccare nuclearmente gli Stati Uniti, diciamo, abbiamo queste bombe atomiche, usiamole, no? E Khrushchev invece frenava, e poi hanno anche litigato. Cosa mi ha raccontato? Mi ha raccontato due cose buffe, mi ha raccontato. Uno diceva, gli ho chiesto, ma è vero che la CIA organizza degli attentati contro la sua vita? Sì, 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 è vero, di continuo, eccetera. Se ci fosse una disciplina olimpica di attentati a qualcuno, io certamente avrei la medaglia d'oro, perché tanti ne ho avuti, eccetera. E un'altra cosa spiritosa che mi ha detto, è quando alla fine io gli chiedo, comandante, si chiamava comandante, lo chiamavo comandante, come mai continua sempre ad andare in giro? Perché lui si è rappresentato con queste tute mimetiche da sbarco, da militare. Perché continua ancora ad andare sempre in giro con queste tute, così ormai la guerra è finita, la rivoluzione l'avete vinta, i tempi della Sierra Nevada sono finiti, eccetera, eccetera. E lui mi dice, ah, perché mi fa comodo, sono abituato, quando parto mi metto dentro la valigia, non devo pensare a cosa mettere, metto quello, eccetera. Poi mi dice, ma tu, perché io gli davo del lei, lui mi dava del tu, non so perché, ma tu, al Papa, glielo hai chiesto perché porta sempre quel vestito bianco? E' simpatico, tra l'altro. Senta, Gavrosky, lei si definisce come giornalista, uno intervistava e dedicava l'intervista ai personaggi. E' stato un giornalista buono, lei, magari non è giusto come termine, critico, se tornassi indietro rifarebbe tutto quello che ha fatto a livello giornalistico o sarebbe più agguerito? Beh, cercherei sempre di farlo meglio, adesso non so in che cosa meglio, ma certamente uno non è mai soddisfatto, sarebbe grave se uno fosse soddisfatto di quello che fa, perché manca la molla per migliorare, per far di più. Per esempio, non so, l'intervista al Papa, l'intervista a Giovanni Paolo II, mi sono presentato lì con un magnetofono che era vecchio, antico, eccetera, con quelle cassette piccoline, non mi ero preparato abbastanza bene, l'intervista col Papa è una cosa unica, infatti poi ho dovuto riscaricare, ricaricare, insomma, sono stati un sacco di complicazioni. Credo che bisogna sempre ambire a migliorare e credo anche che ci sia sempre spazio per migliorare in qualsiasi cosa. Però quello che ha fatto lei ne è sicuramente felice, cioè è sicuro di dire io ho fatto a livello giornalistico quello che, perché oggi c'è il giornalista, sa che urla, che sbraita, è curioso, è quello che ci rimette anche della propria salute, cioè è un giornalismo un po' vario, variegato rispetto, magari una volta che era più schematico, un giornalista oggi una volta che lavorava in Rai doveva rispettare determinati canoni, perché magari rischiava anche il lavoro, oggi magari è un po' diverso la domanda rispetto una volta, oppure era così anche una volta. Ma io direi che adesso è un po' cambiato, effettivamente come dice lei. Ecco proprio così, facciamo così, ho capito. Senta, prima diceva che lei ha iniziato a lavorare per la Gazzetta dello Sport, lei poi ha intervistato anche Primo Carnera quando stava male, praticamente giusto, era malato. Non si vedeva però è morto poco dopo, credo sei, sette mesi dopo, ma non si vedeva ancora. E beh, Primo Carnera è impressionante, mi ha raccontato tutta la sua vita, quando lui faceva il salto in banco, stava nei circhi. E' quello uguale, non vediamo nell'immagine. Accidenti, che bello. Lo intervistai a Los Angeles, non mi ricordo più come mai stava a Los Angeles. E niente, poi la box, queste sue vittorie, lui poi fu sconfitto da un tedesco, Max Schelling, non ricordo. Si, fu sconfitto da un tedesco, che poi gli salvò la vita, questo qua che lo sconfisse sul rig, salvò la vita perché era un ufficiale tedesco, salvò la vita durante la guerra. Quindi lui mi raccontava anche questo episodio, molto toccante. Senta, adesso torniamo un attimino, cerchiamo di andare e arrivare ai tempi nostri, però non possiamo non passare tramite Giovanni Agnelli. Lei l'ha conosciuto molto bene, quindi sicuramente qualcosa mi può raccontare che uomo era? Beh, era un uomo nel suo genere eccezionale, diverso, esteta. Gli piacevano le cose belle, aveva passione, piaceva le donne, le donne piacevano a lui. Era anche facile piacere alle donne con tutto quello che aveva, immagino, al di là delle... Sì, sì, ma al di là dei soldi era affascinante, era anche affascinante. Ma ecco, ma... Lei è vissuto con il periodo, dicevano, io le chiedo quello che si racconta, che era lui che comandava in Italia, era lui che politicamente comandava l'Italia, da dietro le quinte. Al governo poteva esserci la destra, la sinistra, di Centro No, però lui incideva e non poco. Era vero questo? Io direi di no. Cioè, era vero che aveva un prestigio enorme, che quando diceva qualche cosa, quello che lui diceva aveva peso, ma non ha mai sfruttato questa sua... o rarissimamente l'ha sfruttato, cioè non è mai intervenuto in politica, non è mai... Magari sarà intervenuto nelle decisioni che riguardavano la sua azienda, cioè la Fiat, per difenderla o per facilitarle il lavoro, la produzione, eccetera. Ma non è mai intervenuto nella politica nel senso stretto di dire nominiamo capo del governo questo... Non incideva in questo, ne dici? Non gli interessava, non gli interessava, anche se potenzialmente ne aveva la possibilità, perché come dice lei giustamente aveva una grande influenza. Ecco, quegli uomini, gli agnelli, i Ferrari, i grandi imprenditori che hanno fatto crescere l'Italia economicamente, oggi non ci sono più... è cambiato il potere del mondo. Io direi che ci sono. Hanno sbagliato qualcosa, secondo lei? Chi? Il dopo di loro qualcuno, i figli... Ma ci sono, ma ci sono i grandi... Se uno pensa al mondo della moda, non so, del Ferragamo, della Valle, sono tutta gente che... Che è un po' meno degli agnelli... Beh, però è gente che si è creata da solo, cioè in una generazione. Agnelli aveva il nonno che ha cominciato, sono tre generazioni, ha avuto tempo per allargarsi. Questi della moda di oggi, fanno in pochi anni, fanno la rivoluzione, fanno dei fatturati enormi. Però diciamo che è meno, molto chiaramente ci hanno più possibilità una volta, perché una volta si partiva del dopoguerra che non c'era nulla, e quindi era più facile costruire un qualcosa. Oggi c'è tutto, perché oggi uno deve avere un'idea per fare qualcosa di diverso, ma c'è praticamente tutto. Però quel tipo, mi sembra, quelle generazioni, in Dicu di Agnelli, ma anche in altre città, Pirelli, no? Pirelli, o qui nel nostro territorio Rizzato, o altre aziende nel nostro nord-est, dove è ricco di questi personaggi, sono scomparsi. Ma forse bisogna anche prendere questa zona che allora era più facile creare, oggi è più difficile, oggi ci vuole, insomma oggi, a parte il costo del lavoro è tutto, ma insomma ci vuole più fantasia, più energia, c'è la burocrazia che frena, insomma, io penso, io poi non ne capisco molto di induzione, ma penso che sia più difficile avere successo oggi di quanto fosse allora. Sicuramente, sì, perché oggi c'è una varietà. Siete, nel ritornare a D'Agnelli, quando acquista il giornale La Stampa, vuole metterci la pezza dentro oppure fa solo l'editore e dà un'impronta al giornale per dire, perché lui era un gioiellino, mi sembra, la stampa per lui. Sì, ma lui aveva una grandissima passione per la stampa, considerava la stampa il miglior giornale del mondo. Giornalisti un po' meno. Giornalisti, quegli amici suoi, tipo i grandi giornalisti, tipo Montanelli, di cui era amico, lo rispettava, non aveva tanta stima della categoria in sé, per quelle ragioni che dicevamo anche prima, cioè che, insomma, in Italia il giornalismo è un po' superficiale, un po' senza cose. Però, però, aveva degli amici giornalisti che stimava molto. E la stampa, considerava il miglior giornale del mondo e considerava impossibile che qualcuno potesse lasciare la stampa per andare a un altro giornale, come è successo, non voglio dire sovente, ma è successo anche. Certo. Senta, Gavoschi, oggi l'informazione sta completamente cambiando per la tecnologia, perché oggi addirittura si sa la notizia ancora prima che esca, perché fra poco succede qualcosa qui fuori, lo sappiamo, la organizziamo quasi. I giornali, come devono cambiare per continuare ad esistere, secondo lei, e se possono continuare ad esistere? Secondo me, il giornale deve diventare sempre più locale, più occuparsi dei fatti della propria città, del proprio paesino, del proprio, fare la cronaca più che la grande politica, perché la grande politica viene fuori dalla televisione, viene fuori dai commenti, eccetera. E credo che è una lotta molto difficile, è chiaro, è ovvio, che combattono. I giornali oggi hanno perso copie su copie, dunque, ecco, le chiedo a lei, un esperto, proprio se oggi c'è la possibilità, tanti dicono, i giornali cartacei addirittura moriranno per via, ovviamente, dei computer, ecco, secondo lei, moriranno, oppure, bisogna proprio cambiare, cercare di fare... Moriranno, moriranno, ma molto lentamente, molto lentamente, perché c'è, in sita, una grande abitudine a apprezzare, avere questi stifogli in mano e leggerli in mano, piuttosto che su una cosa, su un computer, eccetera, però, però la tendenza, la tendenza è quella, credo che sopravviveranno quelli che non avranno la pretesa di essere dei grandi giornali nazionali, ma dei piccoli giornali locali, che raccontano la storia della località, non la storia del mondo, la storia del mondo, la racconta la televisione. E la televisione continuerà ad esistere, nonostante... Eh beh sì, se la situazione si trova... No, perché poi è successo che con internet una volta si diceva che perderà anche la televisione, non è così, è perché poi i dati dicono che è in crescita, solo che bisogna fare una televisione un po' diversa, insomma. Sì, bisogna cercare, insomma, però, insomma, la televisione va, perché la gente... Io conosco pochissime persone, anzi, ne conosco una sola adesso, perché l'altra è morta, che ha 80 anni, più o meno la mia età, e che non ha la televisione in casa. So che riporta molto bene lei. Grazie. So che compilità. Ma il non avere la televisione in casa è una rarità. Vivere, questa persona vive da sola e non ha la televisione. Forse sta meglio, eh. Cosa dici? Secondo lei sta meglio o no? Non lo so. Non ha un'idea se sta meglio. Senta, poi perché si mette in politica? Poi mi metto in politica per caso, perché era il settant'anni, io ero corrispondente... Poi partito al Repubblicano. Era corrispondente a Parigi. Allora, mi chiama Suni Agnelli, la sorella dell'avvocato, che faceva politica in quel momento. Io allora ero appunto corrispondente da New York, allora c'era un solo canale, c'era solo Rai 1, c'era solo il TG1, e io ero abbastanza conosciuto in Italia, grazie alla televisione. Mi chiede di mettere il mio nome in lista col partito repubblicano, io le dico di sì. Ci sono le elezioni del 79, lei naturalmente vince, io arrivo secondo subito dopo di lei. Nell'81, cioè due anni dopo, lei si dimette perché va a fare o il sindaco o il ministro. E quindi diventa lei. E io ho la possibilità di diventarlo, ma non sapevo, io non sapevo nemmeno che cos'era il Parlamento Europeo, avevo dato il nome così perché me l'aveva chiesto, ma non sapevo nemmeno che cos'era. Allora ero già corrispondente a Mosca, allora mi prendo una settimana per decidere, vado a vedere Strasburgo, che cosa c'è da c'è da c'è, poi insomma, anche perché dopo due o tre anni di Mosca ero già un po' stanco di stare lì, ho deciso di entrare. Non si stava bene a Mosca? Beh, è difficile, appassionante, cioè giornalisticamente è una sfida, è l'unico posto difficile da corrispondente Mosca, lo dicevamo prima, insomma. Sì, ma al di là del lavoro, dicono che fisicamente non si stava bene, faceva freddo, tanto per capirci. No, faceva freddo, sì, ma quello non è tanto importante. Ma c'è quel clima di oppressione, di essere, c'è tanta gente che ha avuto delle crisi nervose, stranieri, per questo, se uno si preoccupa dell'essere spiato, seguito, controllato, visto, eccetera, e beh, è grave, a me non me ne fregava niente, anzi, mi faceva, mi teneva compagnia. C'era, c'era una, uno, noi, ciascuno di noi a Mosca aveva un protettore dell'agenzia di stampa locale, no, che si occupava di noi per risolvere i problemi, i contatti, eccetera. E questo qua, si chiamava Igor, veniva sovente a casa mia a cena con la sua fidanzata, la fidanzata è una bellissima russa, bella, proprio cosa. Lui beveva un po', si ubriacava e si addormentava. e quando lui si addormentava, la russa mi faceva un po' di filo. E io non ho mai saputo... Lei era imperterrito, immagino. Imperterrito, imperterrito. Lo sai che non ci credo mica? No, imperterrito. Ma io non ho mai capito se lui si ubriacava veramente o se faceva finto di abilacarsi per dare salta, per vedere, per compromettermi. Per incastrarlo, insomma, in parole povere. Non ho mai capito. Allora, lì aveva capito, ha detto meglio. Grazie. Senti, ritornando, eravamo partiti con la politica, l'ho interrotta io, perché aveva detto che in Russia era un po' difficile vivere. Ecco, in politica mi diceva, allora lei si informa. E poi, sì, poi, poi, e poi sono entrato in politica. Poi il Parlamento mi è piaciuto molto, il Parlamento europeo. Interessantissimo. Io ho visitato 130 paesi. Cioè, in paesi del mondo sono 190, secondo l'Ono. Non ne ho visti 130, sono tanti. Tutto colpa... Perché io mi occupavo di politica estera, il Parlamento europeo. in pratica ogni settimana si andava da qualche parte, qualche viaggio, qualche missione, tutto. Quindi è stato un periodo... Ecco, in un Parlamento europeo, chi comanda lì? C'era fatto una domanda, prima di volte, ci sono oggi gli europarlamentari, che sono a Strasburgo, che vanno a Bruxelles, e vanno lì e partecipano, ovviamente, a tutte le problematiche. Poi, alla fine, chi tira le file? Il Parlamento è un organo di proposta, certo, ma direi soprattutto di controllo. Cioè, osserva quello che succede, quello che fa la Commissione, ed ha influenza sulla Commissione. Il Parlamento è controllato dai gruppi politici. Certamente la politica... Sì, ma secondo lei, no, è una domanda molto... Secondo lei, in parole povere, c'è un paese sopra gli altri, dicono la Germania, la Russia, dicono, che ne so, che dirige quel Parlamento, non ovviamente... Non dirige, no, ma certamente... Però, dietro le quinte, uso questo termine, insomma, il burattinaio del Parlamento, definiamolo così. No, certamente, come nel resto dell'Europa, come in ogni settore europeo, la Germania ha più peso degli altri paesi, ha più rappresentanti, ha più uomini in posti chiave di potere, e quindi, certamente, ha più influenza degli altri paesi. E quindi... Non c'è un burattinaio. Nel Parlamento... No, no, è una domanda questa, non lo so, se c'era qualcuno, o se c'è qualcuno. E quindi lei poi ha fatto l'euro parlamentare... Poi ha fatto l'euro parlamentare per cinque legislature, tante. Poi, quando Berlusconi incomincia la sua carriera politica, la sua... Lei? La sua strada politica, io, a me piaceva molto Berlusconi. Ne diventa il portavoce. Ne diventa il portavoce. Allora, lo raccontiamo nell'ultima parte della trasmissione, andiamo in pubblicità, andiamo nell'ultimo periodo politico con Jeska Froskia. Tra poco rimanete con noi.